Un altro sbarco di migranti nel porto di Roccella Ionica. Dopo l'arrivo nel primo pomeriggio di domenica di 85 migranti di nazionalità prevalentemente afghana, poco prima dell'alba al termine di un'operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia Costiera di Roccella Ionica, sono giunti 67 migranti di nazionalità iraniana, irachena ed egiziana. Tra i profughi 48 uomini, tra cui un disabile, 9 donne, tra le quali una 75enne e 10 minori, alcuni dei quali con meno di 6 anni d'età. Prima di essere soccorsi, trasferiti su una delle motovedette della Guardia Costiera e condotti in sicurezza fin dentro il porto, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela localizzata a largo della costa calabrese, ad oltre 50 miglia dalla riva. La barca con i profughi, stando a quanto emerso dalle prime verifiche fatte dalle forze dell'ordine, sarebbe partita dalle coste della Turchia nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Prima di essere soccorsi, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela localizzata a largo della costa calabrese, ad oltre 50 miglia dalla riva. La barca con i profughi, stando a quanto emerso dalle prime verifiche fatte dalle forze dell'ordine, sarebbe partita dalle coste della Turchia nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. I profughi, dopo lo sbarco, sono stati sottoposti a visita medica e successivamente su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nell'attenso struttura portuale di prima assistenza gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Il porto di Roccella Ionica è stato meta negli ultimi quattro anni di oltre 150 sbarchi, per un totale di circa 15.000 profughi di varie nazionalità.